Piatti succulenti, buon vino, birra artigianale e una vetrina per i prodotti tipici locali. Grande successo ieri sera per la festa in condotta, l'evento organizzato dalla condotta Slow Food dell'Agro Nocerino Sarnese che ha visto protagonisti, oltre 30, tra produttori e ristoratori della zona, tutti insieme per un cibo buono, pulito e giusto. L'evento è andato in scena presso il ristorante Luna Galante di Nocera Superiore. Tanti gli chef che si sono messi all'opera, ognuno con un piatto diverso, per far scoprire quanto di gustoso offre l'Agro Nocerino Sarnese con la speranza che gli appassionati del buon cibo di tutta la campagna possano scoprire le nostre realtà e frequentarle durante tutto l'anno. Quello di dare un po' di forza ai locali, di far credere ai produttori che anche noi siamo presenti, che anche noi ci siamo. Quindi basta fare un prodotto di qualità, basta essere convinti di ciò che si fa, non abbassare mai la guardia. E forse se l'unica via di uscita in questo momento, che ripeto, molto molto difficile, che solo senza venire meno alle proprie aspettative, al proprio ottimismo, si può andare avanti. È il motivo per il quale ho invitato sia gli amici ristoratori che i produttori che vanno da Scafate a Nocera Superiore, con tutta la nostra palle, per parlare di quello che è l'eccellenza, il pomodoro San Marzano, di portare in auge il cipollotto, di parlare del peperoncino verde e friarillo. C'è cose che praticamente fanno della terra la nostra forza. L'Agro Nocerino Sarnese di qualità c'è, l'Agro Nocerino Sarnese di qualità è questo qui, sono questi chef e questi produttori che sono intervenuti stasera. Tutti insieme per Slow Food e non posso che ringraziarli. Mi piace stare con voi perché voi siete propositivi, siete forti. Io ho portato terra continua, cioè praticamente in questa pentola con la tua pasta posso cucinare tutto, perché il piatto si chiamerà sempre terra continua, perché c'è un contadino che ce lo dà e che lo fa e che l'Agro e noi lo facciamo.